L'esibizione dell'orchestra incontro degli studenti della scuola media di Pian del Bruscolo hanno aperto l'inaugurazione della prima edizione del festival dell'amore a Vallefoglia. Il festival dedicato all'amore per la vita, per la natura, per la felicità e per il benessere ha trattato la prima tematica nel primo giorno dedicata alla Costituzione, alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo con un laboratorio e una tavola di discussione sui valori fondamentali dell'umanità. Saranno tre giorni di dibattiti, di incontri con le scuole, con i ragazzi, con i giovani e soprattutto al centro e l'amore per questo pianeta, l'amore per la salvaguardia dell'ambiente, per il lavoro, per la piena occupazione. Sono obiettivi importanti su cui ragionare e costruire insieme un nuovo protagonismo delle nuove generazioni e abbiamo cercato di coinvolgere un bel gruppo di giovani per ragionare sul loro futuro. Il primo pomeriggio il dibattito sul tema in oggetto si è spostato sul territorio con testimonianze di sindaci, architetti e designer sulla buona pratica urbanistica alla presenza anche del consigliere regionale Andrea Biancani. Ho visto che sono stati coinvolti soprattutto i giovani, le scuole, le varie realtà del territorio quindi è una bellissima idea che come Regione Marche abbiamo voluto sostenere, sosterremo. Il festival proseguirà fino a domenica 16 febbraio presso il centro commerciale Le Cento Vetrine con altri appuntamenti in programma.